Buonasera a tutti e benvenuti al Borgo Teson. In questo bellissimo complesso delle peralpe trevigiane troviamo tanto divertimento, tanta serenità, tanta pace e tanta allegria. Adesso andiamo a presentare un po' tutto il locale qui al Borgo Teson. Vini, birre, salumi, formaggi, specialità gastronomiche, anche l'asporto, gusti e sapori del nostro territorio. Ora andiamo all'interno della nostra cantina per conoscere i nostri prodotti. Ci troviamo all'interno della cantina del Borgo Teson, qui con il nostro collega collaboratore Mirko Dalbo che sta preparando la serata, giusto, la serata contadina. La serata contadina è il massimo. Qui noi offriamo salame, formaggio e anche il pane. E anche il pane, però il bere? Eh no. Quello che possiamo fare tutto, no? Eh mamma mia. Ragazzi non potete volere la moglie ubriaca anche da botte piene, mentre di venti cade il paico, no? Abbiamo una bellissima scelta vasta di vini. Andiamo dai vini rossi, dalla Sicilia, dalle Marche, dall'Abruzzo. Andiamo qui in Veneto. Poi abbiamo delle bellissime riserve di Valpolicella. Abbiamo tantissimi vini bianchi, sempre nel Veneto. Anche della birra? Eh, della barbina che è in Arigo, vero? Certo, certo, certo. Benissimo. Poi vanno anche gli sfumati, i vini passiti, i salumi anche del Vajonza, signori eh. La pettuccia anche questa eh ragazzi, la pettuccia è un prodotto molto tipico, fatto con cervo e suino, oppure anche con pecora e suino. Quindi andiamo veramente a proporre dei prodotti un po' di nicchia. Quindi non andiamo a vendere il classico salume, ma bensì prodotti di nicchia. Il tuo bacio è duro, che si morde con i suoi sfini, già sei facile a giocare, che ti fulmina sui rini, che fai il freddo di uno show, e perciò mi andò così. Il tuo bacio è duro, che si morde con i suoi sfini, che si morde con i suoi sfini, che si mä e perciò mi andò così. Il tuo bacio è proprio rock, che ti mordi con il suo scegno, assai facci nel locale, che ti colpina a sturri, fa l'effetto di uno show, e perciò cattò così, oh 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 oh, il tuo bacio è proprio rock. Sì, Grazie a tutti.